Ciao a tutti, sono Claudia Banzica e lavoro per Netflix Italia nel team di post-produzione come post-production coordinator. Nell'approfondimento che faremo sulla post-produzione vedremo quali sono le fasi che caratterizzano la post-produzione, cosa intendiamo per post-produzione e perché è fondamentale la figura del responsabile di post-produzione o post-production supervisor che sia presente sul progetto dalla preproduzione fino alle consegne. Allo stesso modo capiremo perché è importante abbracciare lo sviluppo tecnologico senza dimenticarsi che è sempre tutto a servizio della creatività. Perché è importante oggi la figura del development executive perché lo scenario è cambiato, non basta avere una storia per fare un buon progetto, è importante che ci siano delle figure di raccordo sempre più specializzate, quindi è prezioso avere un interlocutore che accompagna un progetto dal punto di vista editoriale dallo sviluppo fino alla promozione. Perché è importante avere una figura che conosca la post-produzione perché sa le potenzialità della post-produzione e cosa ci si può aspettare dalla post-produzione. iscriviti al canale